Musica Amici di Globus, un calorosso saluto da Salvorusso, benvenuti ad una nuova edizione, un nuovo appuntamento con Calcionate Flash, il contenitore di Calcionate e i commenti in casa rossa-azzura che vi darà compagnia per tutta l'estate, ogni lunedì a partire dalle 15, un appuntamento che avete cominciato a seguire e che vi vedrà protagonisti anche attraverso l'interazione con la nostra pagina Facebook Calcionate e i commenti in casa rossa-azzura e anche la nostra linea Whatsapp, ecco i numeri prontamente 340 051 1286 per contattare la nostra redazione, avremo il tempo necessario, mezz'ora lo sapete e in questa mezz'ora oggi parleremo naturalmente di calcio mercato ma non solo, alcune news che riguardano la stagione a venire del Catania e anche due interviste con campioni celebrati che stanno nel cuore di tutti i tifosi rossa-azzuri, due ex atleti ma sempre presenti anche in campo, lo sveleremo più tardi, oggi l'incontro con Davide Baiocco e Giovanni Marchese. Prima di tutto questo però il solito riepilogo con la tabella su come potete interagire con noi, come seguirci attraverso tutti i nostri canali, eccoli qua Globus Television, canale 1518 del Digitale Terrestre utilizzando la tecnologia HBBTV per la Sicilia, con la stessa tecnologia sintonizzatevi sul canale 268 per quanto riguarda appunto la diffusione nazionale oppure seguiteci sui nostri canali diretti www.globusmagazine.it slash video e potete seguire qui tutte le nostre trasmissioni streaming o sulle piattaforme Twitch, TV Dream, Facebook, Local TV e Cyborg TV anche per gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia e per tutta l'Europa, quindi non avete scuse, seguiteci anche attraverso la nostra app Globus Network Italia, app per Android e iOS. Allora, chiusa la parentesi, andiamo subito nel vivo, partiamo subito dicendo che oggi sono solo, vedete non c'è accanto a me o non ci sono accanto a lui io, comunque il riferimento è a Vincenzo la Corte che naturalmente salutiamo e che ritornerà presto qui a condurre, a co-condurre questa trasmissione. Allora, un saluto a Vincenzo la Corte e partiamo subito dicendo che da oggi, primo di luglio, si apre ufficialmente la sessione del mercato, quella estiva, la più attesa perché tutte le società progettano la nuova stagione e quindi le date ufficiali sono a partire da oggi, primo luglio, sino al 30 di agosto. Nel frattempo la società si sta muovendo e ha già iniziato non solo a sondare per bene il campo, ma questo va fatto già da qualche settimana, ma ha già individuato i potenziali rinforzi, due sono già ufficiali, ne parleremo tra poco. Nel frattempo poi la squadra verrà radunata in sede credo l'11 di luglio e poi il 14 si arriverà ad Assisi, il 15 ufficialmente prenderà corpo il ritiro della squadra sino al 3 agosto. Avremo modo di parlare. Allora siccome mi piace aprire subito parlando di futuro di questa squadra, rivolgendo però uno sguardo al passato, andiamo subito con la prima intervista che abbiamo raccolto ieri a bordo campo di una manifestazione che abbiamo seguito, cioè il primo memorial che si è svolto a Maletto e l'intitolazione dello stadio a Stefano Bonina, lì abbiamo incontrato Giovanni Marchese, ex capitano rossazzurro. Ascolpiamolo. Sta per iniziare questa nuova stagione per il Catania, tu sei stato capitano di questa squadra in un momento glorioso. Lo scorso anno una stagione difficile, che tipo invece di stagione ti aspetti? Ma ci auguriamo tutti quanti che il Catania possa ritornare dove merita perché è una città importante, ha un tifo importante, tutti siamo tifosi del Catania, tutti abbiamo questa maglia, quindi ci auguriamo che il Catania dopo la scorsa stagione, che è stata una stagione un po' attenerante, possa far bene questa nuova stagione con questi nuovi dirigenti, quindi vediamo cosa succede, ma ci auguriamo tutti quanti veramente che ci togliamo prima possibile questa categoria. E di capitano futuro cosa ci dici? Capitano futuro? Lui ha nove anni, adesso lo sto allenando io nella scuola calcio, al momento dato che non sto allenando nessuna squadra, a parte la nazionale siciliana, gli dico sempre di divertirsi, che questa è la cosa più importante a lui, come tutti gli altri bambini, divertirsi di impegnarsi perché ci vuole anche impegno e sacrificio, ma la si prende con massima tranquillità ancora, i bambini devono crescere tranquilli, sereni e felici di poter fare questo sport. E questa era Giovanni Marchese, ecco le sue parole, più tardi, ma non di tanto, visto che abbiamo mezz'ora a disposizione, ascolteremo anche Davide Baiocco. Intanto andiamo nel vivo di quelle che sono le operazioni già definite di calcio mercato in casa Catania e parliamo dei due nuovi acquisti ufficiali, il primo è, si tratta di un acquisto importante perché Gianluca Carpani, classe, adesso ve lo diciamo, vi sveleremo un po' la scheda, però di Carpani diciamo che è stato sicuramente uno dei primissimi obiettivi proveniente dalla Re Canatese, squadra nella quale ha militato e nell'ultimo biennio ha totalizzato un votivo considerevole, 10 gol a stagione, 37 le presenze per Carpani, un biennale sino al 30 giugno del 2026. Questa è la scheda, a proposito di schede ringraziamo come sempre il nostro Turi Compagnia, il Salvo Ferigno che ogni settimana ci alimenta visivamente poi con tutti i dettagli, vedete, vediamola in primo piano la scheda, eccola qua, di Gianluca Carpani che arriva da questa stagione importante con, anzi con queste due stagioni importanti alla Re Canatese, poi ha girovagato un po', ma neanche tanto al Fano, altro biennio importante, ad Ascoli dove ha collezionato sei stagioni, alla San Benedettese è un mediano che comunque predilige magari appunto spaziare nelle zone centrali del campo e diciamo che è uno di quei profili che il Catani aveva valutato per tempo. L'altro invece, e anche questo è molto importante, è il nuovo portiere, vale a dire Adamonis, eccolo qua anche la scheda di Adamonis che ha 27 anni, ha esordito in patria con l'Atlas Clepida, poi anche lui è arrivato in Italia, a titolo definitivo arriva dalla Lazio l'estremo difensore con un contratto sino al 30 giugno 2026 con un'opzione per la stagione successiva. Nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze e 15 clean sheet, ha totalizzato anche 10 presenze in serie B, 70 in serie C, vanta una presenza nella nazionale maggiore lituana che è la sua nazione d'origine e che quindi è a tutti gli effetti un obiettivo importante. A proposito di portieri e di porta, è chiaro no anche evidenziare come la scelta appunto di Barius Adamonis sia via delle indicazioni precise, visto che Furlan non resterà al Catania, che Beters è del Catania, di proprietà del Catania, ma verosimilmente sarà dirottato ad altra società anche perché il giocatore è stato fermo per quasi tutta la stagione, ha bisogno di riprendere il contatto con la porta, con il campo. L'altra opzione potrebbe essere abbastanza interessante, forse più per il Catania che per il giocatore, ma evidentemente queste sono valutazioni che faranno i dirigenti, potrebbe restare al Catania come secondo appunto del nuovo portiere. Per quanto riguarda invece le altre notizie di mercato, allora diciamo che ci sono diversi rumors già da qualche tempo per la verità, già la settimana scorsa avevamo riempito la nostra pagina, anzi chiedo alla regia di mandare proprio la schermata generale sul mercato, sempre preparata dal nostro valente Salvo Ferrigno. Eccolo qua, le trattative, quelle che sono realisticamente in questo momento attenzionate dalla dirigenza del Catania, le altre sono dei rumors che però ci fanno capire il senso, anche perché Salvo Ferrigno è davvero bravo, sopra ha messo nella finestra superiore gli acquisti, quelli ufficiali, accanto quelli molto vicini perché il radiomercato ci dice che Capomaggio e D'Andrea potrebbero essere nelle prossime ore colpi definiti, diciamo così, Capomaggio è un mediano mentre D'Andrea è una punta centrale, due pedine che potrebbero far davvero la differenza in queste prime battute di mercato. Poi le altre sono quelle che già stavamo seguendo da qualche settimana come artistico, su artistico però c'è da fare un distinco perché la società ha già dalla sessione di mercato di gennaio puntato l'attenzione su Gabriele Artistico che è svincolato, lo ricordiamo, ma che avrebbe contatti molto avviati anche con formazioni di categoria superiore e quindi staremo a vedere. Poi c'è De Rose, ne abbiamo parlato, tra i nomi nuovi c'è anche Di Tacchio, c'è anche Ghibua, anche questo un mediano, c'è L'Escano che è una prima punta, anche lui svincolato, comunque sono tanti i nomi, però è chiaro che per esempio tra i nomi che si stanno facendo in queste ore c'è quello di Mohamed Varelia Giamanca, classe 99, anche lui è un attaccante che è in uscita dalla Reggiana e che sarebbe vicino al trasferimento in rossazzurro, quindi anche questo è un nome caldo. L'altro nome caldo è quello di D'Andrea, Filippo D'Andrea, anche qui per D'Andrea ci sono movimenti in atto. Quindi al momento diciamo questa come infarinatura generale è la situazione, poi andremo meglio nel dettaglio. Intanto vediamo subito se arrivano messaggi da parte dei nostri amici che ci stanno seguendo. Allora c'è Luca Laspina che ci informa e questa è un'interazione molto apprezzata, perché vuol dire che i nostri amici non solo ci seguono ma interagiscono fattivamente con noi, ci dice che Capomaggio non viene più, cercheremo conferme, comunque vedremo di avere nel più breve tempo possibile la certezza di questa notizia. Comunque grazie a Luca Laspina. Poi Massimo Gamba, Furlani, se era un calciatore del vecchio Bologna, rettifica, plise, si chiama Furlan, è chiaro. Vediamo se però nella schermata di poco fa evidentemente c'è stato un errore, ma solo di distrazione, chiaramente. E comunque si parlava di Furlan, il calciatore in forza al Catania. Non c'è nessun errore nella schermata, quindi non so da dove è stato preso il nome di Furlanis, caro Massimo Gamba, ma almeno questo. Poi Francesco Lippo, Betters, rimarrà e avremo un lituano ed un lettone in porta, dice Vamos, quindi aria sempre più internazionale, così come ci sono delle piste che portano in Argentina e quindi staremo a vedere. Salvo Belfiore ci dice Novità, buongiorno, cercheremo di darvele, ne abbiamo già anticipato qualcuna. Poi Mauro Vaccaro, gran bel colpo, D'Andrea, lo ribadiamo, D'Andrea è uno di quelle piste calde che potrebbe definirsi a presto. Quindi questi i nostri messaggi, i primi saluti ai nostri amici che stanno interagendo da casa. E come promesso adesso però la seconda intervista ad un altro capitano in un altro periodo glorioso del Catania, un altro che ha il cuore rossazzurro e che abbiamo ascoltato ieri, Davide Baiocco. C'è sempre quella, non andrà mai via. È come una seconda pelle per me. Non è un segreto che la squadra della mia città, Perugia e Catania, sono le mie due secondi pelli. Per me è stato un momento nella mia vita non solo professionale ma personale importantissimo. Sono legato fortemente alla Sicilia, a Catania e questo non cambierà mai. Sta per iniziare una nuova stagione ma questa è una domanda inevitabile. Che stagione ti aspetti dopo la stagione tribolata dello scorso anno? Ma come tutte le cose ci vuole tempo. Quello che ho detto sempre quando si è insediata Rosperligra e tutti i componenti dello staff del Catania è dargli tempo perché è una città che parla di strutture, parla di giovani, parla di marketing, parla di pubblicità, parla di tutte cose che servono per sviluppare un'azienda e vedendo quello che ha fatto allo stadio, quello che sento che vuole fare anche per il centro sportivo, sono tutte cose che servono a dare stabilità nel tempo al Catania. Quindi ci vuole tempo, ci sta che un anno non si riescono a raggiungere i risultati. Spero che trovano la quadra soprattutto per un progetto tecnico che duri nel tempo. hanno fatto delle scelte importanti e sicuramente sarà una stagione entusiasmante per il Catania, sono sicuro. E questo era Davide Baiocco e chiaramente grazie sia a Davide Baiocco che a Giovanni Marchese che ci hanno concesso qualche minuto del loro tempo prima di andare in campo e partecipare al primo trofeo Stefano Bonina, peraltro vinto dalla formazione All Star Sicilia che aveva dentro i due campioni rossazzurri. Allora abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di alcuni colpi in entrata ma inevitabilmente adesso ci rifacciamo la stessa domanda che è quella che ci frulla in testa ogni lunedì. Perché se il mercato in entrata si definisce strada facendo e naturalmente il Catania non ha fretta di concludere però è chiaro che vuole arrivare al ritiro precampionato, quello di Assisi, con una rosa definita in qualche modo al 50-60%. Questo per evitare che poi si arrivi lunghi o corti a secondo del punto di vista ad inizio di stagione anche perché quest'anno la stagione inevitabilmente inizia prima, c'è l'impegno di Coppa Italia che aprirà ufficialmente la stagione proprio quasi ad inizio di agosto e poi si proseguirà e ci sarà poi da valutare ma di Coppa Italia ne parleremo tra un attimo. E comunque dobbiamo anche capire e cercheremo di farlo forse ancora troppo presto chi saranno i giocatori in uscita o probabilmente, perché i giocatori in uscita probabilmente saranno tanti ma più sicuramente focalizzare e fare focus su quelli che saranno i nomi che invece di quei calciatori che potrebbero rimanere in rossa-azzura per scelta naturalmente della dirigenza e dell'allenatore quando parlo di dirigenza parlo naturalmente di Faggiano e del gruppo dirigenziale di Grella parlo anche dello staff tecnico, dell'allenatore e la valutazione si sta facendo, strada facendo scusate il bisticcio di parole, ma è chiaro che nomi come quello di Castellini sembrano un punto di partenza quasi certo, utilizzo il quasi perché Castellini è una di quelle pedine inamovibili al momento nel Catania ma è chiaro che è anche un giovane di grande prospettiva che ha mercato ed ha richieste anche importanti per il momento nulla trapela ed è chiaro, ma è chiaro anche che se arriverà l'offerta quella irrinunciabile per così dire, beh magari verrà valutato con molta attenzione questo caso così come invece pare quasi definito il futuro di Chiarella altro giocatore contrattualizzato con il Catania, quindi di proprietà della società di Ross Pelligra che però potrebbe andare a giocare a Rimini, c'è una richiesta in tal senso questo per dare modo al calciatore che lo scorso anno è rimasto un po' ai margini di poter invece giocare e quindi di poter trovare poi la condizione migliore anche perché qui c'è un problema anche di scelta tattica, di modulo e difficilmente pare che Chiarella possa trovare spazio nel modulo scelto da Toscano stesso discorso per Cicerelli perché anche Cicerelli potrebbe rientrare in questa opzione è chiaro che il giocatore è talentuoso e potrebbe far la differenza a Catania in questa stagione però anche qui c'è la questione modulo perché è più adattabile al 4-3-3 che non al 3-5-2 staremo a vedere poi quali saranno le considerazioni di Toscano gli altri nomi, Quaini, Buà, Zammarini c'è anche la questione poi da valutare per quanto riguarda la linea difensiva e quindi Monaco in una difesa a tre poi c'è l'alternativa Cianci lì davanti il giocatore che nello scorcio finale del campionato si è messo in evidenza affatto bene sono tanti gli interrogativi si potrebbe rispondere a questi interrogativi penso con maggiore precisione la prossima settimana perché di fatto, lo ribadiamo ancora, siamo al primo giorno ufficiale di calcio mercato allora vediamo se nel frattempo ci sono altri commenti da casa da parte dei nostri amici che ci stanno seguendo allora a proposito di amici e come seguirci vi ricordo, poi magari lo faremo a fine trasmissione che domani questa trasmissione andrà in replica sempre alle 15 sintonizzandovi sul canale 15 del Digitale Terrestre su 7 Gold Top Calcio 24 quindi non perdete l'occasione di seguire se avete perso qualcosa la differita insomma la replica di questa trasmissione e dicevamo poco fa di altri nomi c'è per esempio Tribuzzi che è uno di quei nomi caldi ma il giocatore ha mercato e in questo momento ci sono anche delle richieste da parte di altre società come Avellino e addirittura lo Juve Stabia in Serie B quindi Tribuzzi sì, pista calda ma vedremo come si andrà poi a definire questo percorso dicevamo della Coppa Italia poco fa perché il Catania entrerà ufficialmente nella Coppa Italia di Serie C a partire dal secondo turno quindi domenica 11 agosto intanto c'è la... sì sì, l'avevo vista però di sfuggita eravamo andati così veloci ecco la scheda di Tribuzzi poi riprendiamo il discorso sulla Coppa Italia allora vedete qui Alessio Tribuzzi centrocampista altro ruolo che potrebbe ricoprire quello di esterno sinistro di mezzala proprietà del Crotone e quindi altra figura davvero molto importante classe 1998 un giocatore di esperienza anche in questa categoria dicevamo quindi della Coppa Italia e poi chiaramente sapete che il Catani invece affronterà la Cararese nel primo turno turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa il 4 di agosto facciamo un altro salto temporale per dire invece della primavera oggi non c'è Vincenzo sarebbe stata materia di sua pertinenza però diciamo che la primavera è riuscita sicuramente ad accedere e a riparare a quello che era successo appunto dopo una stagione che si era conclusa in maniera beffarda contro l'Ancona e invece i rossazzuri parteciperanno al campionato di primavera 3 poi entreremo in questo dettaglio la prossima settimana ma è importante affermare questo alla guida della squadra resterà Marco Biaggianti mancano 5-6 minuti alla fine della trasmissione credo c'è ancora tanto da dire allora bella domanda quella di ancora di Francesco Lippo che ci dice campagna abbonamenti previsioni e beh guarda Francesco è chiaro che si sta preparando il tutto si sta cercando di trovare la quadra su alcuni punti che magari l'anno scorso non sono stati messi nel proprio casellario nel momento giusto ci sono da definire alcune cose è chiaro che in avvio di stagione appena si avrà la definizione quantomeno di quelle che sono le strategie non solo per quanto riguarda il calciomercato ma la definizione proprio di tutta l'intera stagione è chiaro che ne sapremo di più anche perché sappiamo che il direttore marketing Salvino Sinatra è già al lavoro e quindi saremo noi chiamati in prima linea quando ci sarà bisogno e quando ci saranno notizie certe di informarvi in tempo reale al momento chiaramente tutto ancora a bocce ferme allora altra nota ma doverosa riguardo ad ex bandiere rossa-azzurre perché in settimana si è spento Giovanni Gavazzi calciatore del Catania nel corso degli anni 60 e 70 Gavazzi Gavazzi 1946 aveva 80 facciamo i conti 80 80 va beh se facciamo i conti ne avevo 84 credo penso proprio di sì col Catania ha collezionato 83 presenze 4 reti fra campionato e coppa naturalmente la redazione di calcionate i commenti in casa rossa-azzura sono idealmente vicine alla famiglia Gavazzi allora vediamo se abbiamo il tempo ancora per definire salutiamo Massimo Gamba che dice 78 con la matematica siamo scarsi te lo dico subito Massimo allora grazie comunque altra pronta pronta prontissima interazione grazie ai nostri amici che quindi non solo non ci lasciano soli ma sono pronti presenti a fare anche loro la loro parte come giusto che sia vediamo un po' se ci sono altri aggiornamenti in tempo reale ve li diamo altrimenti andiamo un po' a riepilogare tutto quello che abbiamo detto sinora in questa puntata che è stata anche ricca di informazioni quindi abbiamo detto della Coppa Italia abbiamo detto della Catania in primavera tre abbiamo detto anche di quello che sono le operazioni di calcio mercato chiudiamo dicendo che c'è da evidenziare un altro momento di gloria per lo sport catanese soprattutto per il beach soccer perché nella finale di Coppa Italia tutta catanese e questo è bene sottolinearlo il Catani FC è abbattuto per 5 a 4 il Catania beach soccer in un derby davvero molto molto esaltante e quindi comunque la finale era tutta tinta rossa e azura e comunque Catania è salita nuovamente nell'Olimpo di questa competizione credo che siamo davvero addirittura ad arrivo se Gaetano Ligreggi mi fa cenno con la testa credo proprio di sì allora l'appuntamento per lunedì prossimo sempre alle 15 sempre qui su Global Television e su tutti i canali a noi collegati un saluto a Vincenzo La Corte un saluto a naturalmente Gaetano Ligreggi in redazione a Filia Stroscio al nostro direttore Enzo Stroscio e un grazie naturalmente a chi ha interagito con noi domani la replica su 7 gold top calcio 24 sempre alle 15 da Salvorus è tutto buona serata inclusione a